Un rimorso di coscienza che fa partorire alla montagna Antopolino, questo secondo la FLC CGL Siciliana e Palermitana, il risultato momentaneo del provvedimento contenuto nel Decreto 1000 Proroghe, con il quale il Governo fa un piccolo passo avanti, consentendo alle regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare, rivedendo entro domani anche i piani eventualmente già approvati. La FLC CGL ha ribadito la sua disapprovazione per tutta l'operazione al tavolo regionale che si è svolto tra assessorato all'istruzione, USR e organizzazioni sindacali. In Sicilia il tutto si tradurrà in 18 autonomie salvate solo per l'anno scolastico 2024-2025, quindi cissututi superiori e 3 comprensivi. In totale, nell'isola i tagli di autonomia annunciati per l'anno 21 saranno 75 e non più 93, ma saranno 23 però l'anno successivo. Nel dettaglio la provincia di Palermo perderà 17 autonomie e non 19, tra Pani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Caltania 14, N3, Siracusa 8 e Messina 7. Ma ciò vale solo per un anno, il 2024-2025, e senza che su queste scuole possano verificarsi trasferimenti o assunzioni di dirigenti o di direttori dei servizi, perché verranno date a regenza con possibilità di esonero o semi-esonero per il docente vicario, dichiarano il segretario generale FLC-CGL Sicilia Adriano Rizzo e Fabio Cirino, segretario regionale con delega al dimensionamento scolastico e segretario generale FLC-CGL Palermo. Un provvedimento quindi temporaneo, frutto probabilmente, aggiungono Rizzo e Cirino, dei problemi che si stanno determinando nelle regioni per l'attuazione pratica della norma, ma anche inutile nella sostanza. Nel trenno, infatti, sono confermati tutti i tagli delle autonomie già decisi. Tutto ciò, aggiungono i due segretari FLC, non servirà certamente a indorare la pillola.